Come si svolgerà l'evento? Abbiamo un programma molto articolato, essendo un meeting dedicato a Pirandello e Ruggeri, questo rapporto eccezionale che ha portato appunto alla storia del teatro qualcosa come i sei personaggi in cerca d'autore. Qui in effetti avremo la possibilità di vedere domani le elaborazioni da parte degli studenti dei testi pirandelliani, perché è proprio questo il sentimento che pervade il nostro meeting. Alla Pinacoteca San Domenico ci sarà appunto una performance di due formazioni laboratoriali, mentre sabato alle 16.30, sempre in Pinacoteca, ci sarà un progetto speciale, un vero spettacolo, L'uomo dal fior in bocca, con una versione onirica. È un testo pirandelliano che Ruggeri ha interpretato, ma qui l'interpretazione è dei giovani che faranno in modo che il testo venga rappresentato per intero all'interno del bellissimo spazio della Pinacoteca con l'introduzione della figura della donna. E anche questo è un segno di innovazione, perché Pirandello era un rivoluzionario ed è appunto considerato quello che ha rotto gli schemi teatrali ed è per questo che i giovani si avvicinano a lui con grande interesse.